e buongiorno mondo questo è veramente l'ultimo giorno della nostra settimana di ferie ci siamo svegliati qui a canosa a casa di nunzio e lella siamo appena tornati da un giro e una colazione insieme a loro adesso sono andati loro a ritirarci la focaccia barese perché ridi perché ci stanno viziando sono andati a ritirarci la focaccia barese che ci porteremo in treno in sarà la nostra cena di questa sera e basta si torna a casa andiamo a prendere italo a barletta a dopo ragazzi ed eccoci in stazione a barletta ci mangiamo un espressino freddo e torniamo a casa un quarto d'ora arriva il nostro treno dovrebbe essere puntuale da quello che dice trenitalia a dopo grazie a tutti e buongiorno mondo siamo tornati ormai ieri sera dalla nostra settimana di ferie ma stiamo cercando di fare ancora i vacanzieri nonostante siamo a collegno questo è il castello lo aprono poche volte all'anno oggi è aperto per la festa del paese e quindi ne abbiamo approfittato per venire a visitarlo ci sono anche le bancarelle dove ci siamo comprati ovviamente da mangiare anche qua perché si mangia sempre e guardate che bello il castello di collegno facciamo finta di essere in vacanza anche a casa a dopo ragazzi ragazzi davvero non vi rompo più non vi rompo più sto tornando veramente a casa è finita è domenica domani si ricomincia a fatturare nella grigia fabbrica e quindi niente ciao a tutti e al prossimo viaggio a 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